Grazie, Presidente, perché suo tramite credo sia troppo importante dare risposta alla puntuale e condivisibile riflessione dell'onorevole Capezzone. Colleghi, su, forza. Allora, colleghi, prego, vada avanti, deputato Richetti. Colleghi, per favore. Momenti di larità alla Camera dei Deputati, quando il relatore al decreto di legge sui partiti, Matteo Richetti, è inciampato sul cognome del collega Daniele Capezzone, di riformisti e conservatori. Facendo una clamorosa gartice, credo sia troppo importante dare risposta alla puntuale e condivisibile riflessione dell'onorevole Capezzone. Poi si coraggia e dice, Capezzone. La reazione del chiamato in causa è stata quella di scoppiare in una fragorosa risata, davanti a un imbarzatissimo Richetti. Di fronte al brusio e alle risate dell'emiciclo la Presidente Boldrini è intervenuta e ha invitato più volte ad andare avanti. Colleghi, e su, forza. Prego, vada avanti, deputato Richetti. Prego, vada avanti, deputato Richetti.